Presidente Antonio Mergiotti da Penne a Chieti. Sì, sono contento, soddisfatto e orgoglioso di rappresentare, di essere presidente di questa società così gloriosa e importante. È una piazza che merita di più di quello che ha avuto negli ultimi anni, è un tifo eccezionale, un attaccamento al calcio importante. Il nostro è un progetto a medio e lungo termine che prevede che ha l'obiettivo finale di riportare il Chieti nel calcio che conta, nel calcio quello importante. Intorno a questo progetto ci sono anche altre finalità, una di queste è la finalità del sociale e ci sono tanti altri piccoli obiettivi da raggiungere che possono dare solo lustro a Chieti, alla Chieti calcistica ma anche alla città di Chieti. Presidente, si è sistemata la questione societaria dopo una lunga sofferenza, è durata almeno un paio di mesi se non di più. Alle spalle di tutto questo sappiamo che c'è Giulio Trevisan, proprietario che ha deciso di non parlare, però insomma è dietro a tutta questa situazione e magari con l'aggiunta di altri soci perché bisogna allargare questa piazza e soprattutto adesso si è ritrovata una sorta di fiducia in questa società perché insomma negli ultimi tempi le cose non sono andate proprio al meglio. Sì, il dottor Giulio Trevisan oltre ad essere un imprenditore è un industriale importantissimo, una persona serrissima, è innamorato, è legatissimo al Chieti calcio. Da un mese e mezzo, come diceva lei, c'è stata questa lunga trattativa, astenuante, difficoltosa. Nell'ultima settimana siamo riusciti così a chiudere il cerchio e a riacquisire la proprietà del Chieti. Veramente solo una persona come il dottor Trevisan poteva riuscire a raggiungere un obiettivo del genere e a mettere in sicurezza una società che, come le ripeto, rischiava tantissimo. Si riparte da pochissime certezze, conferme, partire dal Capitano Ricci. C'è anche una presenza che farà piacere al pubblico teatino di Francesco Marchetti nello staff tecnico. In prospettiva si chiederà qualche cosa di più, però bisogna partire con molta prudenza, anche perché non è facile sia in ritardo. Noi adesso non dobbiamo fare grosse promesse. Abbiamo dato la sicurezza al Chieti di avere una società forte, di avere una società presentabile, di avere una società affidabile sicuramente. Già questo è tanto, già questo è importante. Sicuramente adesso ci sarà da costruire la squadra. Cercheremo di fare bene anche quest'anno e poi dare corso al progetto calcistico che abbiamo nelle nostre menti.